L'arte della pesca dal mondo antico ad oggi, un'arte vera e propria oggi vissuta probabilmente solo come un mestiere, ma in realtà c'è un mondo dietro? C'è un mondo, c'è una filosofia, c'è una mitologia, c'è una storia, c'è una tradizione che si tramanda di padre in figlio da millenni nel Mediterraneo. Quindi possiamo dire una vera e propria scienza del mare che è una scienza che è fatta di cognizioni ma è fatta anche di credenze, è fatta anche di esperienza soprattutto. Certamente Mazzara incarna in Sicilia ma direi nel Mediterraneo e forse anche nel mondo uno dei luoghi simbolo di questa scienza millenaria che si è costruita nel rapporto tra l'uomo e il mare a partire fin dalla più remota preistoria. Un mondo, quello della pesca, che va sempre in crescendo, sicuramente bisogna anche riuscire ad essere al passo con i tempi per riuscire ad andare dietro, no? Sì, l'innovazione tecnologica è fondamentale, però certo la pesca oggi non vive un momento favorevole come è noto per tutta una serie di motivi, sia per la riduzione dei stock ittici, sia per i prezzi che aumentano dal gasolio alla manufattura stessa delle barche, l'imposizione fiscale e quant'altro. Quindi il momento non è molto positivo, però è uno dei pilastri portanti della nostra economia. La Sicilia può fondare il suo futuro, sviluppo sostanzialmente sul turismo, agricoltura e pesca, quindi è uno dei tre pilastri su cui certamente bisogna investire e bisogna soprattutto favorire. Quindi guardare al passato per andare verso un futuro migliore? Certo, il passato serve soprattutto per capire qual è il nostro futuro. La vocazione di un territorio non si costruisce all'oggi al domani, la vocazione di un territorio si basa su una esperienza millenaria. Ora la Sicilia e alcune parti della Sicilia, come Mazzara del Vallo sostanzialmente, soprattutto, ma anche Sciacca, Licata, Porticello, Riposto, tanti borghi marinari sono cresciuti da millenni proprio sulla pesca o su una felice complementarietà tra pesca e agricoltura e soprattutto sulla capacità e sulla genialità di taluni imprenditori locali che hanno saputo anche trasformare la pesca in attività imprenditoriale industriale, con l'industria conserviera, con il commercio e quant'altro. Ora tutto ciò oggi è in crisi, però è uno dei pilastri su cui bisogna investire e lo Stato, la Regione, deve fare parecchio su questo settore. Un percorso leggero tra, come lo stesso titolo dice, tra archeologia subacque e paesaggio costiero, facendo un percorso dalla più antica prestoria ad oggi sulle attività di pesca nel mondo della Sicilia. Mazzara del Vallo poi è un centro nevralgico in questo? Infatti il titolo non è casuale, è stata scelta proprio questa sede con questo titolo perché credo che sia un giusto connubio. Parlando anche di pesca al livello attuale appunto, a cosa va incontro secondo lei? Verso cosa dovrebbe protendere oggi la pesca? Diciamo che premettendo che il tipo di intervento si ferma al mondo classico, tutto al più tardo imperiale, è opinione personale che la pesca dovrebbe essere sempre più in armonia col mondo e con l'ambiente. Quindi trovare le forme per poter conciliare le esigenze della comunità locale, in questo caso, con le esigenze del nostro Mediterraneo che va protetto. La pesca è un'attività, un mestiere ma soprattutto anche un'arte? Un'arte, una professione, una passione, assolutamente. Infatti io devo dire che con estrema umiltà non sono un pescatore, lo amo come ambiente e mi sono proprio appassionato. Infatti mi occupo di pesca nel mondo attico nonostante non lo sia. Grazie a tutti.